Si parla di 40-50 mila persone nei sei giorni di manifestazione, si parla di 250 atleti, mille sfilanti, 150 persone che allestiscono, che lavorano, che prestano il servizio a livello volontario. Quindi insomma sono numeri che per una città come Montebelluna sono importanti e danno anche il segno di un territorio che sta piano piano ripartendo con la giusta grinta e voglia. Sono questi i numeri di un grande evento, il resto sono emozioni pure, quelle della 32esima edizione del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna. La festa tra stand, concerti e damigelle è già iniziata ai Piazza Marconi nel fulcro. Siamo qui con le nostre iniziative, con i nostri eventi, con i nostri volontari, con la gente soprattutto, il grande pubblico che fin dalla prima sera, nonostante un tempo non particolarmente bello, ha deciso di essere parte di questa grande festa, per cui siamo estremamente contenti. Sacro, profano, i gesti atletici si alternano in un mix di adrenalina e convivialità. Ogni angolo di Montebelluna è coinvolto. Quella è la zona in cui i nostri giudici sono addetti alla pesatura dei carri. La pesatura avviene il sabato, chiaramente, prima delle prove di qualifica e prima del Palio Donne, che quest'anno sarà le 17.30. E domenica, fin dall'ore 11, dopo la Santa Messa di Benedizione dei Carri, pesatura storica, 380 kg il peso minimo. Un'altra pesa si terrà nel pomeriggio, poi il clou che sarà trasmesso in diretta ad Antenna 3 a partire dalle 15.45. Per chi non potesse esserci, il mio invito è quello di accendere la tv o il sito internet di Antenna 3 per poter assistere anche attraverso le vostre camere e il vostro servizio alla nostra manifestazione, che si annuncia estremamente accesa e partecipata. Collegata anche la lotteria con Duiglio, volontario della prima ora, che si sta dando parecchio da fare. E sono i biglietti vincenti? Sempre? Sono sempre vincenti, i biglietti miei sono sempre vincenti.